Il centrocampista Censori si sta allenando con il gruppo di Cappellacci dalla giornata di ieri. Il legame ufficiale ancora non è avvenuto ma pare si tratti solo di una mera formalità. Censori, centrocampista bravo nei calci da fermo e una vecchia conoscenza di Cappellacci, suo tecnico ai tempi della Sant'Egidiese. Squadra al completo, almeno nel pacchetto senior che si può definire davvero ben assortito. I grandi che si stanno allenando da quasi una settimana al sintetico Vita Antonio di Ripalimosani A questo punto sono 13, ecco l'elenco in ordine alfabetico. Alessandro, Aquino, Boldrini, Bontà, Bucchi, Censori, Dimas, Ferrani, Fusaro, Gattari, Sciamanna, Todino e Valentini. Domani prima sgambatura della truppa Rosso Blu contro i Reds Campobasso, squadra del capoluogo militante nel campionato di seconda categoria. Grazie alla cortese disponibilità offerta dalla società Rosso Blu nella persona dell'amministratore delegato Marco Meo, Telemolise trasmetterà in diretta sul canale 112 la prima amichevole del nuovissimo Campobasso di Cappellacci, tecnico che esibisce il petto nudo e la coppola durante gli allenamenti. Il sole scotta e probabilmente è difficile dargli torto. Per un po' lo stile può aspettare, lo diciamo con il sorriso sulle labbra. Come confermato dal vice di Cappellacci, Gianni, di mattina spazio a pesanti sedute atletiche. Come testimoniano anche le immagini, pomeriggio dedicato alla tattica e alle prove di schemi. Palla al piede, nulla deve essere lasciato al caso, come giusto che sia. La curiosità di scoprire la creatura plasmata dalle mani del tecnico abruzzese e di Minadeo è tanta. L'amichevole si giocherà a partire dalle 17, orario che non sarà proprio esatto, dunque minuto più, minuto meno. Da registrare che nel corso della scorsa settimana la Commissione dei pubblici spettacoli ha concesso l'agibilità a Selvapiana per 3.997 spettatori. Potrebbero essere anche pochi se si dovesse lottare per il primo posto, tenuto conto del calore e della passione della piazza Campobassana. In mattinata abbiamo chiesto nuove referenze sui famigerati lavori alla struttura principale di Selvapiana. Ricordiamo che quelli all'antistadio, per i quali c'è uno stanziamento di 200.000 euro, sono già partiti. Il Comune di Campobasso sta aspettando la nota di conferma del finanziamento da parte dell'ente Regione Molise. La conferma potrebbe giungere entro alla fine di questo mese e sarà il caso di dire finalmente. Subito dopo si procederà alla gara di appalto per l'assegnazione dei lavori. Da fonti ufficiali del Comune abbiamo saputo che il progetto è stato rimodulato in base a nuove e possibili esigenze. Verranno eseguiti dei lavori all'esterno ma pure all'interno della struttura sportiva per ampliarne la capienza fino ad 8.000 spettatori. Le opere toccheranno essenzialmente la curva nord, il cui anello inferiore potrebbe dunque essere fruibile. La nostra curiosità non si è esaurita alle opere di potenziamento e manutenzione dello stadio principale. C'è anche da risolvere un'altra grana non indifferente, quella relativa all'abitumazione della vasta area antistante lo stadio per ora interdetta ai parcheggi e fonte di grossi disguidi per i frequentatori della domenica di Selvapiana. L'assessore ai lavori pubblici Pietro Maio ci ha confermato a telefono che l'area suddetta verrà asfaltata entro la fine del prossimo mese di settembre. Ogni promessa è un debito, terremo costantemente monitorata la situazione che ormai si trascina avanti da troppo tempo senza una risoluzione. Il mercato del girone F è in continuo fermento, in tante sognano un posto al sole, tra queste sta mettendo la testa fuori dal sacco anche la Civitanovese dopo alcune grane societarie non trascurabili cui comunque si è riusciti a dare una risoluzione. La Civitanovese è ad un passo dalle firme dell'attaccante Ambrosini e del centrocampista Davide Carteri, quest'ultimo a lungo inseguito dal Campobasso senza che se ne facesse nulla. Chiudiamo con una notizia. Giovanni Petrecca, dirigente sportivo di Baranello, ha organizzato un amichevole tra una delegazione di giocatori molisani e di Lecce, blasonata a società di Lega Pro in ritiro a Castel di Sangro fino al 31 luglio prossimo. Si giocherà al Patini a partire dalle ore 16.30.